ecco dove sorgerà il centro sportivo della fiorentina questa è la piana di ripoli la strada che vedete inquadrato è via di rosano qua sulla sinistra si vede la rotonda di quarto con il monumento la scultura di acciugarrì inaugurata recentemente dal comune di bagnaripoli e questa è la zona attualmente abbandonata sulla quale verranno realizzati i campi sportivi per le giovanili della fiorentina verrà restaurata una villa che era l'ex centro di formazione dell'enel e nella quale troverà spazio la sede della fiorentina che si trasferirà ufficialmente qua in pratica qui nascerà a casa viola e questi sono i terreni sui quali sarà realizzato il centro sportivo secondo quanto anche ha detto il sindaco casini ci vorrà circa un anno di tempo per esaurire l'iter burocratico che oltre a parte urbanistica e riguarda il comune bagnaripoli prevede le autorizzazioni da parte della sovrintendenza e comunque ha già detto di non essere contrari a questo tipo di insediamento e poi potrà iniziare la realizzazione vera e propria del centro sportivo casa viola nasce a bagnaripoli